Nel frattempo è arrivato il corriere con dei pezzi molto importanti, le bussele antivibranti del controtelaglio. Saranno abbastanza robusti? Allora dopo un paio di ore di sgancia, riaggancia, gira, misura, intraversa, rovescia, siamo giunti a una conclusione? Buongiorno dal cantiere, oggi finalmente mettiamo mano al supporto per le bombole anche perché volevo verniciare tutti questi pezzi ma lo voglio fare tutti insieme, è inutile fare la verniciatura due volte. Quindi a mente fresca incominciamo, prendiamo due misure, andiamo a trovare il ferro, poi si molla, si salda, si taglia, sempre le solite cosine. E vediamo quello che esce fuori. Originalmente le bombe erano passate qui, le sposto perché voglio liberare più spazio possibile sul fianco per il secondo serbatoio e i gavoni. Questa è l'idea che ha Stefano, ovvero costruire due traverse qui sopra, agganciarle con delle cravatta, questi tubolari e poi attaccare le bombole per sotto, sistemate con gli attacchi come gli originali, ovvero delle linguette e delle fascette che la volgono. Via tutto chiaro? Poi per quanto riguarda invece le tubazioni, gli allacci, inverto le posizioni in modo che non dovrei modificare niente, dovrebbe arrivare tutto come prima. Quindi in fin dei conti dovrebbe essere un lavoretto diciamo semplice, occorre solo un po' di tempo per fare le staffe. E una volta terminata di costruire le staffe, vernicio tutti questi pezzi sempre con il nero Raptor in modo che poi, una volta verniciati, mi metta a rimontare questa parte qui davanti. Ce la possiamo fare. Ecco qua, immaginatele così, però attaccate nella parte inferiore. Questa è una prova di dimensioni. Questi che vedete sono i numeri che corrispondono agli attacchi quando li ho smontati, se vi ricordate nell'altro video. Ed ora non ci resta che andare a acquistare il ferro necessario. Cominciamo anche a togliere tutte le fascette così prendiamo meglio le misure con i tubi. Quindi, detto ciò, siamo arrivati con Stefano a una conclusione di recuperare. Questo è l'attacco originale bombole. Questa parte qui da saldare a queste due traverse in modo che abbiamo le curvature per fissare le bombole, quelle originali che sono precise precise. Ora vado a recuperare dei tubolari adeguati per sostenere il peso. Faremo qui delle cravate per fissaggio e all'incirca è fatto. Nel frattempo arriva il corriere con dei pezzi molto importanti, le bussele antivibranti del controtelai. Quindi facciamo un unboxing al volo perché sono curioso. Ho preparato i tre pezzi originali per fare un confronto. Eccole qua. Ecco qua le quattro bussole. Ma perché quattro bussole se sono gli attacchi sono due? Ora ve lo spiego. Poggio un attimo la telecamera così vedete meglio. Innanzitutto la misura è esatta sia internamente che esternamente. quindi ci siamo. Il discorso quale è che questa era da 11,6 mentre queste sono da 80. Da 11 non siamo riusciti a trovarle. Quindi le taglieremo. Ne faremo diventare più corte. Di due ne facciamo una. Qualcuno dirà perché non ne prese tre e risparmiavi perché con tre se ne riesce a farne due. Perché non mi piaceva che se ne faceva una fettina piccola piccola. Secondo me lavora male. Quindi le taglieremo a metà. Tra l'altro questa parte qui sporge rispetto a quella esterna. Quindi qui faremo un taglio preciso in modo che si accoppiano. E ci siamo. Ho detto del risparmio che queste boccole non costano poco. Quattro boccole sono arrivata a 700 euro. È vero che è un materiale che ho preso io è super rinforzato rispetto a quelle di serie. è una boccola molto particolare. Però è un oggetto che una volta che ci ho messo le mani per tutta la durata del camion non ci si rimette più mano. Quindi è meglio investire qualcosina più oggi che ritrovarsi con le pezze più avanti. Ma ora torniamo al lavoro principale di oggi. Le staffe. Vada a comprare il ferro. Sino non continuiamo. Saranno abbastanza robusti? Mentre torno al rimessaggio parliamo anche di prezzi. Quelle due barre sono 55 euro 18 kg di ferro. Il ferro è salito alle stelle. Preferisco investire qualcosina in più di spessore di ferro. in modo che sono sicuro che regga queste sono veramente sovradimensionate ma una volta che l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto perché anche lì una volta posizionato il controtelaio è uno dei più punti che diventerebbe scomodo per lavorare. Quindi investiamo adesso sul futuro. Ora è giunto il momento di tagliare i supporti originali. Prendiamo due misure. Ho tagliato i due ferri e ora vi mostro cosa intendevo prima con il progetto ma nel frattempo è arrivata Precisetti che mi è venuta a trovare per pranzo. Sì. Non sono vestita da operaia. Quindi fare le riprese. Tieni. Mostra quello che devo fare. Questi sono i due pezzi di ferro che avete visto che ho comprato sattina. Li useremo come traverse ed in telaiatura. Qui faremo un incavo in modo che vanno giù di due dita circa. Come unità di misura. In modo che si abbassano e diventano pari al telaio. Non avremo nessuna sporgenza. Poi la staffa per la bombola sarà attaccata così. Intanto ne reggo una mezza alle gambe. Così. Qui verrà saldato. Qui. E qui ci va la fascia dove si aggancia la bombola. Adesso non è proprio la posizione. Sarà un po' più indietro ma all'incirca. Stessa cosa per le due bombole posteriori. Ecco qua il pezzo. E andrà saldato così. Che ne dite? Vi piace come idea? Adesso c'è da lavorare un po' per fare le asole. Il fissaggio naturalmente qui su questa traversa avverrà con dei bulloni e una staffa per sotto. Una cravatta. Quindi avanti e indietro non si sposteranno perché hanno l'asola. E destra e sinistra non si muovono perché hanno la cravatta che stringono. E anche in caso di movimento del telaio lo seguiranno. Vedremo il risultato dell'ingegnere. Tutti pronti con i commenti ragazzi. In parole povere immaginatevelo così rovesciato sul lato di sotto. Ecco come verrò a disposizione le bombole. Vi faccio le presentazioni anche 3D. Nel frattempo mi porto anche avanti con un lavoretto. Non è che ne incomincio 10. È che mentre fa altre cose la vernice si asciuga. Vernice a bomboletta. Questa staffettina che è quello dello stacca batterie. Quindi sta dentro un vano. C'è una copertura di plastica, un'ulteriore copertura di plastica e sta dentro un vano. Quindi la bomboletta va più che bene. Dopo aver verniciato la staffa torniamo al nostro lavoro. Prendiamo delle misure per fare il centro delle due traverse. Dove poi qui farò un taglio a mezzaluna. All'incirca mi avanzerà per due centimetri. In modo che farò questo calco. E niente. Tenterò nuovamente con il plasma. Attenzione. Vai, andiamoci da fare. Riproviamo con il plasma. Direi meglio, vado molto più preciso. Ancora qualche incertezza, ma piano piano. Guardate la differenza. Ho finito di tagliare. Ho risparmiato la palla del video. Solito so io che smere io. Ecco i due ferri. Ho fatto una prova, insomma, come venivano poggiati con le mezzelune, vedete lì. Ora si tratta di fare la piattina qui di rifinitura, i quattro pezzi e via. Ecco qua. Ora taglio la piattina che, una volta tagliata, la mettiamo qui, la sagomiamo e saldiamo. Oggi la concludiamo così, con birra e pizza. Agli amici di là che stanno lavorando alla moto, io quello che ho potuto fare, ho fatto. Chiudo il cantiere e arrivo a casa e domani saldiamo. Eccoci qua dal cantiere. Stattina è tornata anche Elia al lavoro. Sta asciugando il controtelaio senza cadere. Così almeno da questa benedetta ferrox e antiruggine. E' strano. Chissà che cosa mi fa fare. Stamattina mi chiedevo. Vabbè, ma questo è il lavoro comodo. In piano così è già bello che è pulito. No, no, c'è da ripassare quello. Da alcuni punti, ma è una cosa veloce. Mentre io devo finire queste traverse per il fissaggio delle bombole dell'aria. Cominciamo. Ho tagliato gli altri tre pezzetti per fare le curve da piegare. Nel frattempo Elena sta ripassando il controtelaio, fa le ultime rifiniture. In parole povere ecco quello che sto facendo. Poggio il pezzo piano qui sopra. Poi lo martello piano piano fino a fargli prendere forma. Poi con l'ammulatura lo aggiusto. Dopo lo metteremo in piano con la squadretta, una puntatina di saldatura e poi la rifinitura. è un lavoro un pochino di fine e di pazienza, ma preferisco fare le cose alla precisetti. pezzo piegato, ora mangio qui così lui cala e siamo a posto. Con questo sono stato molto più preciso eh. Guardate. Tac. E quattro, quindi siamo a posto. Finito. Adesso saldiamo questi quattro cavallotti. Ecco qua. Abbiamo provato le misure anche delle distanze delle bombole, fatti segni. Quindi dopo finiamo di saldare. Eli sta dando la sua specialità. Il ferrox. Com'è? Che punto siamo? Ormai è quasi alla fine. Però anche oggi fa caldo. Da una parte siamo fortunati perché c'è il bel tempo. Ma dall'altra un po' troppo caldo eh. A ottobre toccherebbe stare un pochino più freschi. Che c'hai adesso? Mal di schiena mo. Mal di schiena. Fatti fare un certificato medico per la stensione lavorativa. Va bene. Direi che sono pronti i due pezzi da saldare. Ho fatto un mucchio di vernici e limatura. Adesso ci vuole una bella pulita. Ecco Elena che è partita con l'antiruggine. Come abbiamo finito? No. Quanto ti manca? Questo pezzo di telaio. Dai dai dai. Che dopo abbiamo fatto? E chiudiamo il cantiere. Anche perché noi siamo rimasti qui arenati al progetto bombole per quanto riguarda l'inclinazione da dare ai supporti. Perché una volta che la bombola viene posizionata qui c'è il problema dei raccordi laterali. Insomma stiamo guardando un po' di dettagli. Ma per oggi basta. Domattina riprendiamo. Eccoci qua nuovamente al cantiere. Allora stamattina con Stefano dobbiamo finire di puntare i sopporti delle bombole. Decide bene la posizione perché non deve essere troppo bassa. Dobbiamo avere del margine. Questa è l'asta che simula dove può andare il canyon in massima flessione. Più di così non si può abbassare perché va a battere sui tamponi lì. Perché le bombole essendo qui dobbiamo calcolare anche in caso di un forte impatto, avvallamento, carico che l'albero di trasmissione non salga più di tanto perché qui questa parte si muove. E quindi dovevamo calcolare la giusta altezza. Più che altro è quella grande che ci crea problemi perché è larga quanto questa parte. E ci sono due raccordi grandi sull'altro lato che devono essere attaccati. Quindi la dobbiamo tenere più bassa del telaio sotto questo piano con i raccordi. Mentre queste due piccole non ci danno nessun problema. Ieri avevamo cominciato a prendere misure ma via va di gente. Abbiamo dovuto interrompe troppe volte perché il pomeriggio c'è più traffico di gente. Stamattina ci riproviamo. Nel frattempo però io per non rimanere indietro e fermo con il lavoro. Vernicio con spray ad alta temperatura. Questo condotto che passa sopra la turbina. È il condotto dell'aria che va verso la scatola del filtro dell'aria. Via cominciamo. La prima mano fatta. Come vedete il controtraio che Elena ieri ha terminato. Ora bisogna rigirarlo e fare lo stesso lavoro dall'altra parte. E mentre sotto sopra salderemo le traverse che ci servono di continuità da uno spigolo all'altra. Più delle traverse di rinforzo. E poi lo verniciamo. Cominciamo a verniciarlo dal sotto. Ah! E quando è anche rovesciato sistemeremo anche il lavoro delle bussole antivibranti. Ma ora torniamo al problema delle bombole. Capo, la notte ha portato consiglio per le bombole? Ancora no. Senti, ma perché non ne fanno una versione quadrata che sporgi meno le bombole? Perché dopo l'aria sugli angoli non... Ah! Pesca male, no? Sì! Allora dopo un paio di ore di sgancia, riaggancia, gira, misura, intraversa, rovescia Siamo giunti a una conclusione? E togliamo le bombole dell'aria. Sì! Sì! Io lo farei elettrico. Tutte batterie qui. Tutte batterie così. Un bel pacco. Risolto il problema. Così ci dovremmo essere. Un spazio. Come ingombri. Perché ragazzi le cose da valutare sono tante. le valvole che vanno qui che sono grandi. Questa valvola qui. La valvola di là. E che le fasce vanno abbatte sullo sfiato dell'aria. Una e mezzo. Tanti problemi, tante misure. Dovrebbe essere dritta la valvola. Quindi la prima saldatura per puntare e fissare tutto il sistema. Altrimenti qui si riapre tutto. La prima parte di saldatura è andata eh. Adesso devo costruire dei spessori da mettere qui. Dei fazzoletti di rinforzo qui, qui e qui. Così finiamo di saldare e di chiudere il tutto. Poi ferrox qui. Anti ruggine su tutto. Ah, mi sono scordato, devo fare i tappi. E poi siamo pronti. Ho fatto i tre spessori, li metto qui. E ora faccio le fazzoletti di rinforzo. Saldatura finita. Ora ho ripulito questi cavallotti qui. Le saldature possono dar fastidio sulla parte rotonda del telaio. E poi almeno si muovono anche bene. E poi rifacciamo la prova sul telaio. Eccolo qua posizionato. Il mostro che tiene le bombole. Adesso bisogna prendere le misure per fare i collari qui. di chiusura e per fare il fissaggio. Alla fin fine è stato veramente un bel lavoro. Stefano ha fatto un gran lavoro di saldatore. Sto soddisfatto. Cerchiamo di concludere la giornata con il sistema rifissaggio e da l'anti ruggine. ci provo almeno. Siamo alla piega dei collari. Guardate che artista Stefano. Deve fare anche dei gioielli, dei braccialetti. Ora lo proviamo. Eccolo qua. Però non mi resta che bucare il ferro. Questo è il lavoro di pazienza. Voglio fare un po' di lino, dritto, piano piano. Lavoro terminato. Abbiamo riposizionato il supporto al suo posto, diciamo. C'è rimasto da prendere la misura dei bulloni. Mi servono. Cos'è? Fai bene a vedere. Si va bene? Insomma. Dai su, quanto li prendiamo i bulloni? 8x12? Allora, un 120 tra piastrino. Si. C'è un 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 c'è. C'è domani che innaviato, come si dice. Ehh. È passato un altro mese questo domani innaviato. Is now